Quanto vale un metro cubo d'acqua? A 30 anni dal racconto del Vaillant, Marco Paolini torna a interrogarsi sull'acqua, tema cardine del futuro del pianeta e della nostra società. All'acqua sono dedicate gli incontri di Fabbrica del Mondo, che in questa seconda edizione saranno nomadi, da Montegrotto Terme nel Padovano dall'1 al 3 giugno ad Assisi ad agosto fino a Trani a settembre. Lo faranno con una serie di cantieri dove Paolini e Pievani si confronteranno con i pensatori delle aree più diverse per raccogliere storie, ricerche, domande e punti di vista. Gli incontri della Fabbrica del Mondo diventano un festival nazionale. Festival non è la parola giusta, sono degli incontri, sono tre giorni di riflessioni, di pensieri, di idee condivise. Quest'anno lo facciamo in tre città. Partiamo a Montegrotto la prossima settimana, 1, 2, 3 giugno. Ci vediamo ad Assisi a fine agosto, 25, 26, 27 agosto, e poi ci ritroviamo in Puglia, a Trani, a fine settembre, il 22 settembre. Grazie alla collaborazione con il Comune di Montegrotto nello splendido poggio di Villa Draghi, tra giovedì 1 giugno e sabato 3 ci saranno il cantiere della transizione ecologica, il cantiere dell'acqua e quello del clima.